Sequestrato il depuratore consortile di Nizza di Sicilia, Fiume di Nise e Aliterme. L'impianto che si trova in contrada piana a Nizza di Sicilia è stato chiuso in esecuzione di un decreto emesso dal GIP di Messina su richiesta della Procura. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della Compagnia del Sud che hanno anche notificato un'informazione di garanzia a quali persone sottoposte a indagine ai sindici in carica dei tre comuni interessati, Carlo Agatino Giacquinta di Aliterme, Antonino Pietro Birguglio di Nizza di Sicilia e Giovanni Sebastiano De Luca di Fiume di Nisi. Oltre all'ex primo cittadino di Aliterme, Giuseppe Marino e a due funzionari del Comune di Nizza di Sicilia, Rosario Leonardo Porto e Umberto Valerini. Avviso di garanzia anche al titolare della ditta affidataria della gestione dell'impianto, Agatino Mantarro. Getto pericoloso di cose, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio e reati contestati a vario titolo ai sette indagati. Il GIP ha stabilito inoltre che l'utilizzo dell'impianto deve essere subordinato al controllo di un custode giudiziario nominato dalla Procura.